Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Rosa Diletta Rossi assume il ruolo di Maria Corleone nella trama. Nell'omonima fiction, che inaugura la stagione televisiva di Mediaset, si dipana il racconto di una donna unica. Una filiata alla mafia che è costretta a vivere il trauma della perdita violenta di suo fratello gemello, Giovanni. Quest'evento cruento agisce come un catalizzatore indelebile per il suo destino, imprigionandola nel passato irrimediabilmente. Dal passato, si sa, è difficile eludere le sue grinfie. Maria Corleone fa il suo debutto su Canale 5 in prima serata a partire dal mercoledì 13 settembre. Per chi fosse interessato, la serie è altresì disponibile in streaming su Mediaset Infinity. In totale, la produzione televisiva si sviluppa attraverso quattro appassionanti episodi. Il personaggio di Maria, noto anche come Mary, ha già visto l'interpretazione di Sofia Coppola nel lungometraggio diretto da suo padre, Francis Ford, ovvero il padrino parte terzo. Per Sofia, questo ruolo recitativo è stato il suo apice prima di intraprendere la carriera di regista, il suo nuovo film, Priscilla, concorre al Festival di Venezia. Questo ruolo ha portato con sé una notevole importanza e, all'epoca, nel 1990, una considerevole quantità di critica. Come attrice, Sofia è stata oggetto di scrutinio, e persino le parole di suo padre non sono riuscite a sradicare le accuse di nepotismo. Il rinomato regista ha rivelato di aver dovuto effettuare un cambio all'ultimo momento, sostituendo con fatica Winona Raidar. Non ho mai nutrito un'autentica passione per la recitazione, ha confidato Sofia Coppola in merito a quell'esperienza. L'ho fatto solo quando mio padre me l'ha chiesto. Tuttavia, la fiction trasmessa su Canale 5 e diretta da Mauro Mancini non inquadra davvero la storia di questo specifico personaggio. Piuttosto, si tratta di un caso di omonimia, anche se entrambe le narrazioni sono intrecciate dal filo conduttore della «Vita di mafia». In questa versione, Maria Corleone, interpretata da Rosa Diletta Rossi, emerge come una giovane donna determinata che si sposta da Palermo a Milano con un unico scopo, seguire il suo sogno di diventare una stilista. Maria ha un compagno, Luca Spada, interpretato da Alessandro Fella, un giovane procuratore da cui aspetta un bambino. Durante un ritorno in Sicilia per celebrare l'anniversario di matrimonio dei suoi genitori, Maria si ritrova coinvolta in un attentato che stravolge irrevocabilmente la sua esistenza. Con il passare del tempo, Maria si immerge sempre più nei meccanismi oscuri della criminalità organizzata, compiendo compromessi con la sua coscienza per difendere la vita e l'onore della sua famiglia, i Corleone. Questo gravoso fardello influenza drammaticamente il suo rapporto con Luca e il loro bambino. Nata a Roma nel 1988, Rosa Diletta Rossi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo da giovane. Dopo essersi formata presso il Teatro Stabile di Genova e successivamente a Torino, ha intrapreso il percorso nel cinema ricoprendo diverse sfaccettature. Tuttavia, è grazie alle produzioni televisive che ha catturato l'affetto del pubblico. Il suo debutto avviene nel 2010 con la miniserie Mia madre, diretta da Ricky Tognazzi. Dieci anni fa, si è fatta notare come protagonista nella seconda stagione di Che Dio ci aiuti. In Suburra, la serie, ha assunto il ruolo di Alice, uno dei personaggi principali. Infine, è apparsa come Alba, la figlia del commissario Carlo Guerrieri, nella serie Nero a metà, trasmessa su Rai 1. Fin da piccola, ho dimostrato una tenacia notevole, nonostante la mia timidezza, ha riflettuto su se stessa. Ho ereditato la forza dalle mie nonne, donne cresciute nelle campagne foggiane, dotate di un pragmatico senso pratico. Sono la prima artista nella famiglia, e per fortuna non ho mai incontrato ostacoli. Oltre a Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella, il cast di Maria Corleone comprende anche Fortunato Cerlino. Conosciuto per la sua interpretazione di Don Pietro Savastano in Gomorra, il suo talento brilla nuovamente qui, dove assume il ruolo di Luciano Corleone, il padre di Maria. All'interno del cast della fiction, troviamo anche Giuseppe Tantillo, Tosca D'Aquino, Federica De Cola, Aglaia Mora e Vittorio Magazzù. La produzione di Maria Corleone è opera di Tau2, la casa di produzione che nel corso degli anni ha donato ai telespettatori di Canale 5 una serie di grandi successi seriali. Dai noti distretto di polizia a RIS, passando per ultimo, squadra antimafia, fino a Il capo dei capi e Rosi Abate. Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale.